Ha un volto e un nome per ora tenuti sotto stretto riservo, il killer di Antonio Bevilacqua sarebbe un 46enne di Montesilvano, professione pizzaiolo, l'uomo che fucile in mano entrato alle 2.50 nel par Birrami di Via Verrotti, freddando con un solo colpo il 21enne Rom. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l'ingresso e l'uscita del 46enne, irreperibile da sabato notte, e sono state preziose per gli investigatori che nel giro di poche ore sono così risaliti al responsabile dell'omicidio. Ora è aperta la caccia all'uomo. Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Montesilvano e quelli del nucleo investigativo hanno effettuato una perquisizione nella casa del killer non lontana da Via Verrotti. All'interno i militari hanno trovato un vero e proprio arsenale, ma non l'arma del delitto. Quel fucile da caccia, ben visibile nelle immagini della notte dell'omicidio che con una rosa di 40 pallini ha perforato l'occhio sinistro delle 21enne causandone la morte immediata, così come ha accertato anche l'autopsia, eseguita sabato pomeriggio nell'ospedale di Chieti dal medico legale Giuseppe Sciarra. Dunque la prima pista seguita dai carabinieri coordinati dal pubblico ministero della procura di Pescara Paolo Pompa sembra essere quella giusta. Non un regolamento di conti mafioso, come lo stile dell'omicidio avrebbe suggerito, ma una fucilata per una parola di troppo pronunciata in un litigio avvenuto all'incirca un'ora prima delle 2.50 di sabato notte, sempre davanti al pub. A confermare l'ipotesi investigativa ci sarebbe anche il racconto di un super testimone, un 56enne pluripregiudicato negli anni 90 già responsabile di un omicidio a Pescara in Via Aldomoro. Lui, riconosciuto tramite le immagini della sorveglianza, ha detto di essere stato presente al diverbio dell'1.50 e poi, come raccontano le stesse immagini, nel momento in cui l'assassino è tornato nel pub per fare fuoco. Una parola di troppo, forse un'offesa, probabilmente un infame, ha scatenato la furia omicida. Per i carabinieri anche l'alcol ha giocato il suo ruolo, innescando così una reazione sproporzionata, ma i contorni di questa vicenda e il reale motivo del litigio restano ancora poco chiari. Di certo al momento c'è che Antonio bevi l'acqua, sposato e da poco padre, dopo aver festeggiato con il padre Vincenzo il permesso premio di quest'ultimo in carcere per una truffa milionaria relativa al commercio di automobili, è arrivato in Via Verrotti per comprare le sigarette nella vicina tabaccheria. Poi ha incontrato alcuni conoscenti e si è fermato davanti al Ristopub Birrami. Successivamente il litigio con il 21enne che è però rimasto nel locale a bere una birra e a schiambiare due cacchiere con il proprietario seduto al bancone del bar. La cattura del killer, dicono gli investigatori, potrebbe essere solo questione di ore, mentre nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Pescara continua ad entrare testimoni che vengono ascoltati in cerca di ulteriori conferme e dettagli.